Ciao a tutti, il potere liberatorio del Waffa. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco. Ecco, quindi, veniamo un attimino a cosa serve il Waffa, senza aggressività, senza nulla. Bene, è un metodo, diciamo così, che serve per gestire le nostre emozioni, per imparare a gestire le nostre emozioni e aumentare l'autostima quando siamo in una situazione che non funziona. E magari qualcuno che tu continui a seguire, questo continua, diciamo, questa, continua a scappare, continua, che ne so, quando c'è un qualcosa che non funziona e che tu senti un attaccamento. Allora, devi imparare a gestire le emozioni, perché per sedurre bisogna gestire le emozioni degli altri, ma evitare che gli altri gestiscano le nostre emozioni. Ovviamente gli altri non è che gestiscono le nostre emozioni per qualche motivo, è perché noi spesso siamo dipendenti, cioè ci attacchiamo all'abbandono, ci attacchiamo al rifiuto, ci attacchiamo alla disistima, ci attacchiamo al timore del giudizio, ci attacchiamo al paura di essere svergognati, insomma, un sacco di emozioni negative. Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Se vuoi approfondire molto questo tema, puoi partecipare al mio seminario gratuito, che tratterò venerdì 11 ottobre a Torino. Venerdì 11 ottobre a Torino, alle ore 21 è il seminario gratuito, ma tassativamente devi prenotare al 333 15 11 703. Ma veniamo un attimino al potere del Waffa. Il Waffa è un potere molto forte, perché nel momento in cui tu vivi questa situazione di comprensione emotiva, senti un attaccamento verso questa persona, questa persona ti fa soffrire, c'è un unico sistema, un atto di coraggio per liberarti, per viverti, per far crescere di colpo d'emblè la tua autostima. Quindi prendi il telefono e appena risponde, Waffa! E finisce lì la cosa. Ecco questo è... e ti darà forza. Ti darà forza e poi dopo chiudi. Dopo chiudi, nel senso, fai no contact, non stare a inseguire, e goditi le emozioni di aver fatto un atto di coraggio, di aver fatto veramente qualcosa per te stessa, qualcosa per te stesso, qualcosa che ti dà molto potere. Ecco, è un'alimentazione emotiva molto forte questa, che ci possiamo dare per aumentare rapidamente l'autostima e di fatto poi per, diciamo, mettere le cose in chiaro con quest'altra persona, che non è che sei zerbino o zerbina, che non è che hai bisogno di questa persona. Anzi, dopo il Waffa e nel no contact, te ne vai a cercare degli altri, vai in giro, interagisci, e vedrai che il mondo si aprirà. Vedrai il mondo da una finestra diversa e non avrai più nessun timore, perché questa iniezione di autostima ti farà vivere veramente nuove relazioni sentimentali molto importanti. Ripeto, se vuoi approfondire il tema della gestione delle emozioni e come sedurre attraverso le emozioni, puoi partecipare al mio seminario gratuito venerdì 11 ottobre a Torino, alle ore 21. Lascio nel box tutte le info, così, perché la prenotazione al 333 15 11 703 è obbligatoria. Ciao a tutti, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti.